Siamo nel centro di Milano e anche oggi sono in ritardo per andare a un evento Si tiene proprio qua nel centro di Milano, la GameStop ed è un evento dedicato a Hogwarts Legacy Sono grasso, quindi così non riesco a correre E questo è il nuovo negozio GameStop in via Torino a Milano, guardate, tutto tematizzato per un evento Smettetela di dire che sono uguale a Longo, vedete lui è un'altra persona, cioè non siamo la stessa persona Cioè non è che se abbiamo la barba, gli occhiali, basta Ci piacciono le stesse cose e parliamo allo stesso modo No, siamo gemelli, siamo gemelli, basta, diciamolo Gemelli diversi Esatto Vai Ma che è la versione milanese, ragazzi Sì, sì, Maranza La versione Maranza, vai Oh, Milano Gemelli, oddio, aiuto Non è partito, no C'ho rischiato la bossa per niente Cato, 100, 100 Ma devo seguire anche mentre giro? Sì, sì Yeah, oddio Non è andato Però è stato un bel momento, ragazzi Sì, sì, sì Un saluto Un saluto, ciao I fan di Harry Potter mi odieranno per questa versione trapper di un mago Ma che figo che è dentro Tutto tematizzato Wow C'è anche il castello Bello Raga, però ho fatto il pagliaccio lì in mezzo vestito come un maghetto di Hogwarts Però, ragazzi, mi hanno fatto un regalino Un regalino interessante Se ci vediamo in live per giocare insieme a Hogwarts Legacy e anche tante altre belle cosine Quindi mi raccomando, seguiteci Grazie a tutti